Iniziata, ti compri la cover originale dell'iPhone 3, 2, 1, go! Buon giorno ragazzi e ragazzi Oggi stiamo con una giornata qui con un nuovissimo video Ovvero un video Ma sto sti capelli oggi non si vogliono sistemare In pratica un bellissimo video Perché in pratica, perché in pratica già l'ho detto 3000 volte Nella live dell'altra volta di venerdì Vi ho detto che mi dovevo prendere la cover dell'Apple originale E ragazzi l'ho presa L'ho pagata un bel po' però è bellissima Ora ve la faccio subito vedere E si ragazzi Oggi per la prima volta Ho comprato la mia prima cover originale E poi Bellissima Allora già la busta è finissima Perché tipo è una busta in classe va bene Mi hai comprato no? Qualcosa La cover in questione Uno scontrino Uno scontrino No è vero Allora vi dico Subito il prezzo E dopo parliamo Ma io penso perché per iPhone X Però per iPhone 8 iPhone così Costato i 29 euro E infatti io pensavo che costasse 29 euro Invece l'ho pagata Ben 45 euro Che nella telecamera non si vedranno mai Perché è piccolissimo Guardate Non si vede Vabbè 45 euro Vediamo se sta scritto in più Grande Non si vede Bene 45 euro Vabbè dopo ve lo faccio vedere anche sulla cover Perché sta lì anche E ora Ecco Quello che stavamo aspettando Tutti quanti Tutti Tutti Una busta No basta Basta Scherzi dai Questa è la busta dell'Apple Molto bella Tutto ok Bellissima la mela Ora dai Ora ve la faccio vedere Lì il colore l'ho presa Inbevinate Rosa Troppo 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 bella C'era Anche rosa più scuro Cioè La mia decisione Vabbè qua Sì Qua è scritto anche 45 Si vede Dove sta? Eccolo Boh Penso lo vediate Si si vede Si si E in pratica La Io stavo decidendo Tra una Fucsia Con Lo stemma un po' più scuro Oppure questa Rosa chiaro Con lo stemma Un po' più scuro Molto carina E ho scelto questa Subito Diretta Babboio Questa appunto Ed è bellissima Raga L'ho anche provata Sul cellulare Perché c'era anche quella In esposizione E l'ho provata Ed era fenomenale Bellissima Quindi ora basta Sto aspettando troppo tempo Questo momento E la devo aprire E la devo aprire Allora Questo è vetro E questo è La mangi Ragazzi è troppo bella No ragazzi è bella Fenomenale Basta Devo subito mettere Questa non la leverò Mai più Ok adesso per mettere No Siri non ti apriare ora Non è il momento Raga Ecco la mia cover Apple Vabbè Qui c'è il fondo Di mia Giulia Molto bello Ma questi sono dettagli Ed è bellissima Wow raga E poi protegge benissimo Perché guardate Qui sotto È bella coperta E poi anche qui E raga È troppo bella C'è proprio Si dimmi C'è tutto ok Chatti Ok va bene Ok Poi che ne so Ti fai un bel selfie Wow Sto benissimo C'è bellissima Ragazzi Mi piace un sacco Bellissima Che bel colore Che ho scelto No raga È troppo bella Mi piace un sacco È stupenda Che bel colore Che ho scelto Bello chiaro Tengo anche La maglia Che sicuro avete visto Perché se Mi seguito Lo sapete E In pratica Tengo anche la maglia Quella là Con il lama Sopra Che è Identico Il colore Wow Raga Sto morendo Troppo bella Ragazzi Ovviamente Sotto a questo video Sicuro partiranno I commenti Degli haters Che diranno A proposito Hater Non è che noi diciamo Hater Perché non sappiamo Che si dice Hater Però Noi Ce l'abbiamo Da Quando abbiamo aperto Il canale Che in pratica Piccoline Così Quando abbiamo aperto Il canale Che dicevamo sempre Hater Siete dei Watter Perché fa rima Con Watter Quindi Perfetto Non vi preoccupate Noi sappiamo Che si dice Hater Però Noi li chiamiamo Hater Punto Cioè Se state sotto Al canale Di Marga e Giulia Che voi Gli haters Li chiamate Hater Punto Ok Allora Quindi Sicuro partiranno Le critiche Dei Watter Dei Hater Che diranno Sei una viziata Ti compri La cover originale Dell'iPhone Tieni Eccola E' proprio bella E' vero Hai ragione Sì Sì ragazzi E noi Li bloccheremo Tutti quanti Tutti 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 In modo che Non potranno Più commentare Appunto Quindi Viva la vita E ragazzi Io ho condiviso Questo momento Con voi Perché so Che a voi Fa piacere Che io condivido Le cose con voi E per voi Io ho comprato La cover oggi Ma non l'ho aperta Raga Non l'ho aperta E io a non aprire Una cover Che è stupenda E favolosa Poi Ragazzi Allora Io Ovviamente L'ho pagata 45 euro Questa cover Perché Per iPhone X Non c'è Nemmeno la cover Di Marghe Giulia Kawaii Però Se volete qualcosa Di più conveniente Andate su www.marghegiuliakawaii.it E troverete La nostra cover Io ho preso Questa qui Uno E' stra protettiva E due Non c'era Per il mio telefono Quella lì Nostra Quindi Benissimo Va bene Quindi 3 2 1 Go Quindi ragazzi Questo era il video Spero vi sia piaciuto A me è piaciuto Tantissimo Iscrivetevi a Instagram Marghe Giulia Kawaii Strettino basso official Su facebook Marghe Giulia Kawaii Real Sul secondo canale Maggi TV Su musical Vi piaccia La Marghe Giulia Real E se volete Le maglie Le cover Le tazze E i cuscini E tantissimi altri colori E tantissimi altri colori Andate su www.marghegiuliakawaii.it Ricordatevi che Io Marghe E Giulia Che ora non c'è Però E lei Giulia Facciamo finta Che lei è Giulia E lei Giulia E insieme a voi Fermiamo la Magic Family Cioè Amore Puro Se il video vi è piaciuto Lasciate like Commentate Iscrivetevi al canale E condividetelo Se invece non vi è piaciuto Shhh Iscrivetevi al canale